ciao sono giovanni tecnico specializzato running del negozio maxisport di lissone abbiamo testato in anteprima per voi la nuova asics gel cayano 27 cayano 27 è il risultato delle più recenti tecnologie e materiali asics realizzata per runner pronatori che corrono lunghe distanze grazie al sistema dynamic duo max cayano 27 sostiene il piede durante la corsa evitando che questo si inclini troppo verso l'interno l'intersuola migliorata presenta un ottimo mix di ammortizzazione e reattività accentuando la sensazione di stabilità durante la corsa anche il design del tallone è stato rivisto e migliorato per isolare l'impatto al suolo grazie alla tecnologia gel presente sia nella zona posteriore che sotto l'avampiede questa maggiore stabilità viene completata da scanalature flessibili più profonde sull'avampiede che consentono alla scarpa di muoversi in maniera più naturale insieme al piede asics gel cayano 27 è specificatamente progettata per i runner pronatori che cercano una scarpa stabile per lunghe distanze non delude gli amanti della saga cayano garantendo un'esperienza di corsa confortevole sicura grazie a tutti